cari amici che come me amate l'arte un saluto da nat russo oggi vorrei parlarvi della corrente pittorica detta arte romantica che si sviluppa verso la fine del diciottesimo secolo inizi del diciannovesimo secolo in germania per cui diffondersi in francia inghilterra italia spagna insomma in tutta europa l'arte romantica investe principalmente la pittura per quanto abbia dato impulso ad un nuovo modo di concepire sia l'architettura sia il restauro la stagione romantica è il preludio all'arte moderna propriamente detta e si configura per dei tratti essenziali che connotano più in generale tutta la corrente del romanticismo innanzitutto il rapporto uomo natura la natura viene letta in chiave romantica come l'espressione del divino in terra l'immanenza dell'assoluto nel mondo sensibile di cui l'uomo non è che una caduca manifestazione la natura con la sua bellezza fa scaturire nell'uomo sentimenti contrastanti in grado di terrorizzarlo e di rasserenarli il catastrofismo in particolare suscita nell'animo umano un senso di inquietudine misto ad orrore ma là dove l'uomo riesce a cogliere in tutto una qualsivoglia forma di bellezza si realizza il concetto di sublime così come teorizzò edmund burke una seconda tematica è il ritorno al passato medievale che si traduce in un vero e proprio tuffo nella fede con opere che esprimono il bisogno di riconciliare l'uomo con dio un rapporto che è possibile ricucire in virtù di una ritrovata spiritualità si riprende il concetto di vanitas così come era percepito dal masaccio ed altri artisti del primo rinascimento ossia l'ineluttabilità della morte in pittura si è fatto un largo uso di ruderismo per esprimere al meglio l'impossibilità dell'uomo e più in generale di tutte le opere umane di fuggire alla decadenza l'assenza di una netta prevalenza di uno stile rispetto a quello passato significò in architettura la compresenza nello stesso edificio di due generi a volte antitetici e si parla quindi di eclettismo storicistico una terza tematica del romanticismo è l'aspirazione all'assoluto e all'infinito l'idea che lo spirito assoluto sia il modo con cui diviene la realtà è un'istanza proprio dell'idealismo e traccia un filo comune a tutti i caratteri dell'arte romantica l'uomo è una tappa necessaria dello spirito che se ne serve per perfezionarsi l'essere umano vive in funzione di un infinito processo di automiglioramento dello spirito che immane alla realtà una perenne tensione verso la perfezione e questo è il concetto di titanismo un'altra tematica tipicamente romantica è il senso di libertà e il concetto di nazione il nazionalismo così come veniva interpretato agli inizi dell'ottocento ha poco a che fare con la sua degenerazione di fine secolo alla base dell'idea di nazione stava il principio di autodeterminazione dei popoli per cui una comunità di individui unità nei costumi tradizioni e religione definiva la nazione la pittura romantica fu in alcuni casi particolarmente legata a fatti di cronaca recente in cui erano riportati questo tipo di episodi il contesto storico più che negli altri casi ciò con un ruolo fondamentale il congresso di vienna aveva cancellato tutte le conquiste della rivoluzione francese e aveva ristabilito un ordine anacronistico rispetto alla mentalità dell'epoca la pittura e l'arte figurativa per eccellenza del romanticismo abbiamo detto e assume sfaccettature molto diversificare a seconda del territorio in cui si sviluppa tra i grandi precursori del movimento romanico c'è sicuramente francisco goia in inghilterra si distinsero tre correnti artistiche la corrente visionaria onerica la corrente del sublime e la corrente pittoresca i massimi esponenti di ciascuna di esse furono rispettivamente per la corrente visionaria onerica william black per la corrente del sublime william tarner e per la corrente pittoresca john constable black dipinse specialmente visioni e sogni sull'orma del pittore svizzero joa eric fusli per poi dedicarsi alla rappresentazione di episodi tratti da grandi classici del passato in particolare la divina commedia e il parasiso perduto di john milton tarner incarnò nei suoi soggetti il sublime delle catastrofi naturali dando espressione all'ardore al dinamismo degli incendi ad esempio secondo una tecnica che focalizzava grazie all'uso di linee circolari elissoidali il centro della scena la spettacolarità della natura coinvolge così lo spettatore che apprezza la scena come se fosse stata sfocata da una lente opaca e infine constable si concentrò nella riproduzione realistica dei paesaggi arcadici nelle campagne inglesi cogliendo di volta in volta il cambiamento dei fenomeni atmosferici intendeva stimolare un sentimento di dolce nostalgia per mezzo di colori soffusi e di linee morbide e decorative il più grande esponente della pittura romantica in germania e più in generale la figura che meglio incarna i canoni dell'arte romantica e caspar david frederich pittore tedesco aveva come soggetti per lo più paesaggi da leggersi sotto una chiave interpretativa del tutto diversa da quelli che caratterizzavano i dipinti di constable la natura viene rappresentata in tutta la sua sconfinatezza quasi a voler dare espressione al senso di impotenza dell'uomo che è un essere finito di fronte alla natura che invece manifestazione dell'infinito non a caso l'uomo è sempre rappresentato o di spalle o in lontananza tale che non lo si possa mai guardare in faccia ruderismo e spiritualità sono due costanti nei quadri frederich paradigmatica la croce sulla montagna in cui la luce che si diffonde da dietro il pinnacolo montagnoso può essere assimilata sia ad un'alba quanto alla luce di dio che verosimilmente qui coincidono nella sua opera più nota piantante sul mare di nebbia l'artista connota i tratti del sublime con incredibile maestria offrendo un panorama mozzafiato in francia si distinsero due sottocorrenti il romanticismo fiammeggiante e il romanticismo lacrimoso i massimi esponenti furono rispettivamente eugène de la croix jean louis di orgericolo camille coro e theodore russo della croix pose l'accento sulla questione dell'identità nazionale cercando di esaltare il valore della nazione facendo riferimento ad episodi di cronaca del tempo nel celebre dipinto la libertà che guida il popolo un'esplosione di colori si trova l'incarnazione della libertà la quale si propone come spinta rivoluzionaria contro l'anacronistico carlo decimo di francia il disegno ripropone un modello piramidale assimilabile a molte opera di leonardo da vinci molto interessante anche il massacro di scio col quale l'artista intende evidenziare il difficile cammino della rivoluzione greca in un paese oppresso dal governo dell'impero ottomano jerry cole di formazione neoclassica abbandona presto i canoni accademici per riproporre anche gli interessanti soggetti di cronaca intesi diversamente da della croix come stimolo di riflessione sulla condizione miserabile comune agli uomini colpiti da una catastrofe se si pensa alla zattera della medusa in cui ancora una volta ricompare questo caso doppia la struttura piramidale contemporaneo al movimento romantico in italia si sviluppò il purismo di ispirazione analoga a quella dei pre raffaeliti britannici e dei nazareni tedeschi tuttavia anche qui si radicò una corrente del romanticismo il cosiddetto romanticismo storico il cui massimo esponente è francesco hayes i dipinti di hayes e della corrente del romanticismo storico tendono a rappresentare soggetti del passato per lo più soggetti medioevali nel tentativo di ritrarre situazioni assimilabili al suo tempo esattamente come fa alessandro manzoni con l'adel chi presente nel suo repertorio ennovera ritratti di celebre figure del suo tempo a partire da manzoni fino a camillo benso di cavour nonché una serie di opere che raffigurano due amanti uniti da un bacio appassionato e il suo più noto dipinto intitolato semplicemente il bacio ed è del 1859 rappresenta un uomo in procinto di fuggire ma capace dedicare all'amata un bacio appassionato e sincero identificando quindi il primato del sentimento su qualsiasi altra cosa insieme ad hayes che lavorò soprattutto nel lombardo veneto i maggiori pittori della prima metà dell'ottocento furono pezzuoli e podesti come testimonia lo stesso mazzini e per il romanticismo è tutto un saluto da nat russo a presto con altre correnti artistiche